Valentina Iannone, anche quest'anno soccorso in festa, quale attività svolte durante le serate? In particolare tre tornei, street volley, volley da strada, quindi palla a volo da strada, calcio balilla e ping pong. Oltre ai tre tornei avremo anche giochi per bambini, quindi multi games e giochi a sorpresa gratuiti per gli adulti ogni sera per coinvolgere un po' grandi e piccini. Oltre ai tornei ovviamente il nostro programma è ricco anche di altro perché oltre allo sport, nella seconda edizione di soccorso in festa, siccome si parla di festa ovviamente, abbiamo pensato di coinvolgere anche le varie forme d'arte, proiezione di film, proiezione di cartoni, mostra di fotografia con la brava fotografa Anna Galdi. Poi avremo l'esibizione della palestra Olympic Planet di Moffa Gennaro e Moffa Gianluigi, il 17 l'accademia di Baila conmigo di Anna Maria Ricciardi, con due rapper e poi il 17 luglio ancora avremo l'accademia Dance Academy di Montoro, diretta dal maestro Fabrizio Esposito. Nella serata conclusiva sabato avremo invece l'ospite d'eccezione Antonio Fiorillo, che verrà introdotto dall'Accademia alla Fabbrica delle Note di Luciana Viola. Quindi un programma molto ricco, fatto non solo di sport ma anche di tutte le varie forme d'arte, quindi musica, canto. Un programma ricco di eventi per coinvolgere sia i più piccoli ma anche i più grandi. Certamente, penso che sia fondamentale coinvolgere qualsiasi forma di età, dai più piccoli come avevamo detto con i giochi dei bambini ai più grandi, perché credo che la cosa più importante per noi come ragazzi dell'associazione sia fondamentale, dicevo, crescere insieme, e quindi coinvolgere ogni persona di età differente, quindi dai più piccoli ai più grandi. Per organizzare un evento del genere immagino serva la passione e anche la collaborazione di molte persone. Sicuramente la passione è l'ingrediente principale per organizzare questi eventi, perché si tratta ovviamente di volontariato e senza i ragazzi che ci sono dietro di me, io non avrei potuto organizzare questa bellissima manifestazione, quindi la mia forza sono sicuramente in particolare e in primis loro. Poi voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno aiutato alla realizzazione della manifestazione e tutti gli ospiti che parteciperanno all'evento, quindi le artiste di strada, Rita Lamberti che si è esibita nell'inaugurazione dei giochi, poi avremo Sara Lisanti, l'Accademia di ballo, come avevo già in precedenza detto, di Piera Guariniello diretta dal Fabrizio Esposito, ancora l'associazione Baila conmigo di Anna Maria Ricciardi, la palestra di Olympic Planet di Moffa Gennaro e Moffa Gianluigi, e poi voglio ringraziare ovviamente tutti i partecipanti che insieme a noi spero si stiano divertendo e si divertiranno.